Nel cuore di Detroit, sulla mitica 8 Mile, c'è il più grande sfrontato banco dei pegni della città. Non si sa mai cosa accadrà. Non avete idea di cosa vi aspetta. Mio figlio poteva morire! In questo episodio di Il Banco dei Pugni. Mi chiamo Les Gold e ho un banco dei pegni. Il banco dei pegni è diventato una specie di necessità. Purtroppo la gente non ha soldi, perciò dove vai per un po' di contanti? Possiamo invadere anche con Brown, sapete ragazzi? Non mi aspettavo, sì, però sì, può succedere una roba del genere. Non me l'hanno mai fatta, ma... Wow, a Felix è veramente molto bullo qua. Sfrutta molto bene il Zorange. Ho bisogno di dimostrare a me stesso che ho ancora la stessa abilità di quando ero più giovane. Eccolo, se prendo la vocalista, forse pozzava addirittura. Hanno il 3, quindi ora è ancora più probabile che ingaggino. Là, è sicuramente un 3 perso, però... Nulla di grave. Detroit è una delle città americane più piagate dalla criminalità. Le strade sono pericolose. La gente è capace di fare qualsiasi cosa per pochi dollari. Dobbiamo aspettarci l'inaspettato. Abbiamo fatto un trade buono, anche se non l'abbiamo ancora ricollato, ma non è nulla di grave non aver ricollato. Bellissima sta cuore. Non la faceva prendere. Robo è il capo della sicurezza. Ho fiducia in lui. Ha in mano la mia vita. Mi hanno sparato e ho ancora tre pallottole in corpo. Sono stato miracolato. Possiamo forse scudargli questo mio, no? Uff, che grave. Possiamo ingaggiare, probabilmente. Beh, direi un trade vinto. I nostri clienti sono sempre agitati quando vengono da noi. Non vengono certo qui perché si divergono. Vedi, qua io ho bloccato la ulti di Braum. Va benissimo. È un uno per uno, ma non hanno in mezzo un TP. Non moriamo. Ok, io potrei morire, ma... Ashley è la str***a di American Jewelry. Sono perfettamente in grado di occuparmi di ogni settore di questa attività, dall'amministrazione alla vendita. Muore, bello. Incredibile, è assurdo. Bello in mid lane. Ah, non l'hanno ricollato. Ma quella non è inventata. No, niente. Questa roba come un matto. Ma poi anche lei aveva il flash. Poteva salvare, cazzo. Ma dice che muore lui, eh? Potrebbe finire benissimo. Minchia, che tristezza. Seth erediterà il banco dei pegni. Ha molto fiuto per gli affari. Ah. Nice. Perché se ci vado io, me... L'ammazzo quello. Robo, fermala. E in seguito... Non tornerai a casa da tua moglie stasera. È passata alle minacce. Ti avrà sicuro. E stavolta è Les a perdere la testa. Questa put***a vuole tornare a farmi il culo stanotte. Allora, attacca subito. Ma è là, là. Ma che cazzo? What the fuck? Come? Da dove? Da dove è passata? Sono uscito e ho visto la madre saltare in auto e schizzare fuori dal parcheggio. I miei f*****i uomini li hanno lasciati andare e hanno fatto male. Mio figlio poteva morire. O non puoi fare queste str*****e. Non puoi, c*****e. Non puoi, c*****e. Nessuno sbaglio. Basta cazzo. Non è male, non è male. Non è male, non è male. È malissimo. Non posso neanche brusciare. Sembra che la loro scuola sia molto più forte la nostra. Se mi provochi, mi spuntano le corna e la str*****a entra in azione. Non puoi, c*****e. Eh, ragazzi. Un piccolo tip. Chissà. Nel team è 10x. L'ho spinto. Non vabbiamo. Quando mi inc***o, mi si altera la voce. C'è il f*****o. E invece, parai tu. Ah, non parlare più. Mamma mia, che scacchi. Bastava che aspettavi un attimo di più, c*****o. Mamma mia, che scacchi. Stupida come la merda. Sei una gallina del c*****o. Non ci piace. Non vogliamo arrivarci. Ma quando succede, risolviamo le cose come vanno risolte. No, bello c'è in c*****o. Sei preso la Baldrack. Tipo qua, no? La multi e la Q le utilizzo a nemico fermo. Non è che le utilizzo mentre il nemico si muove. We can win. Anche qua, identico. Mal fai. Se ti salvi, è cosa buona di gio... Mamma mia, questo qui sarà anche ciccione, ma si muove con l'eleganza e una ballerina. In realtà, a questo mondo non mi interessava. Ma quando sono entrato, ho capito che ce l'ho nel sangue e che sarei stato capace. Probabilmente posso giocare qua. Non ci posso credere. Non ci credo, uccidetelo! E lui can win sta per fare effetto. Poi ci dobbiamo fare... Mi sa l'Abyssal Mask, ma l'Abyssal Mask mi sembra una m*****a. Ci hanno due AP, è vero, ma noi ci abbiamo un AP che è Mal Fight. Mamma mia, che dratta del c*****o che ci abbiamo. We need armor pen. Fast. Io credo sia molto importante per noi essere ben protetti. Vai, gira per questo. Non ci posso. Sono sicuramente morto. Ah, ci siamo fia di Mal Fight, abbiamo otto mano. Seth ha ancora poca esperienza. È difficile cercare di essere migliore di me. Ah, che palle. Non c'è la volta. Oh, com'è possibile? C***o, devo riprenderlo. Non è morto. Due per due. No, a me è morto. Vai che muore. Oh, m*****o, è enorme. Non si sta divertendo. Mi ci gioco le palle. Baron, Baron. Senti, bello, vorrei essere servito. Sono qui da mezz'ora. Perché non vi date tutti una mossa? Rela, è il tuo momento di brillare. Ragazzi, we can win. We can win. We can win. Un gran lavoretto, ragazzi. Robo sembra un pacioccone, ma credetevi, con un pugno può stendere un gigante di 130 kg. Sto cercando di calmarmi, ma non ha capito una cosa, io non mi voglio calmare. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Pare gol 4. Beh, ragazzi. Sì, sapevo stare. Shut that! Ma il mio pick è troppo forte ragazzi Report Kalista Resist Mamma mia sto godendo Sto godendo come un maiale ragazzi Vi ricordate quanto stavamo? Stavamo 40 kill sotto Adesso Siamo con le kill pari Ma il loro nexus sta per esplodere Godo 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 GG well played Onoriamo Malphite Bene Abbiamo portato a casa un game importante Niente di più facile We love you Paolo Cannon We love you Paolo Cannon Ventudes Ventudes Support Gap Support Gap Mwah Mwah Allee Support Gap Paolo Cannon Paolo Cannon Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir